Si sta svolgendo in questi giorni a Teggiano la terza tappa della mostra itinerante Francesco Animus Loci e rimarrà aperta fino al 30 settembre nel chiostro di San Francesco a Teggiano. La mostra si inserisce nel programma della quinta edizione del Festival della Teologia Incontri sul tema della fraternità promosso dall'azione cattolica in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Attraverso le tavole dell'artista Rosa Cianciulli accompagnate dai versi di Vitorizzo si ripercorre la tradizione che vuole nel 1222 il Santo di Assisi nel territorio salernitano in vista presso i conventi francescani che stavano sorgendo in particolare sulla costa. Attraverso il racconto del miracolo dello scoglio da cui San Francesco scacciato dall'agropoli predico ai pesci si ripercorre la sua vita legata ai luoghi che hanno ospitato la sua spiritualità. Proprio l'anima dei luoghi e il tratto che caratterizza le tavole della Cianciulli un percorso che invita a riscoprire il senso della fede che abita in posti che hanno accolto autentici testimoni del Vangelo. Un itinerario che non è limitato a un luogo specifico quindi ma che coglie nei luoghi l'assenza che è capace di vivere nei diversi contesti. La presenza della mostra nella città di Teggiano ospitata proprio nel chiostro francescano vuole rappresentare un viatico per riscoprire attraverso l'arte e la bellezza dell'esperienza di fede, di carità, di fraternità che abita e riempie i luoghi di una grazia che si conserva nel tempo. In concomitanza con la mostra a partire dal 17 settembre fino all'ottobre 2024 quei luoghi in essa raccontati ospiteranno l'anno giubilare francescano per gli 800 anni della presenza di San Francesco. Alla presentazione hanno partecipato il curatore Vito Rizzo, la presidente dell'azione cattolica della diocesi di Teggiano Policastro Olga Manolio, il parroco della cattedrale Don Donato Romano, l'assessore del comune di Teggiano Lisa Babino, l'animatore regionale adulti di azione cattolica Don Vincenzo Gallo, il promotore del giubileo francescano di Agropoli Don Carlo Pisani e il vescovo di Teggiano Policastro padre Antonio De Luca.